Presentati i dati Istat su Pordenone, i residenti sono 51.568 con gli stranieri il 14,4%. Le imprese attive sono 4.342 in crescita rispetto al 2016 quando la pandemia era ancora lontana. La città si dimostra capace di attrarre sia residenti dagli altri comuni italiani, più 269 nel 2020, sia dall'estero, più 82 sempre nel 2020. I dati sono stati presentati dal comune. Qual è la fotografia della città che emerge da questi dati? Al netto del Covid che ha stravolto la vita quotidiana, sociale e economica, direi che è la fotografia di una città in salute, di una città che economicamente sta bene, di una città che cresce, che attira turisti, dove l'incidentalità sulle strade è bassissima. Questi sono alcuni dati. Il dato fondamentale però sono i numeri. I numeri non mentono, consentono di dare consapevolezza al cittadino alla realtà in cui vive. Si pensa per esempio alla composizione demografica, ai cambiamenti che stanno avvenendo anche negli residenti in questa città. E dall'altro lato consente anche a chi amministra di mettere in campo degli strumenti che siano coerenti rispetto a questi cambiamenti sociali. Pensate per esempio al calo demografico e quindi al futuro delle scuole, degli esili, all'invecchiamento della popolazione, al numero degli stranieri, all'andamento dell'economia. Sono elementi su cui noi ci basiamo per evitare che siano sempre discussioni basate su sensazioni e dati non oggettivi. Realizzato anche un divertente quiz online aperto a tutti per testare le proprie conoscenze sulla città. Pensato a questo gioco proprio per dare la possibilità di conoscere e focalizzare alcuni dati del comune di Pordenone, per valorizzare i dati stessi, ma anche per avvicinare i ragazzi ai dati statistici. Che tipo di domande ci sono? Allora si parte da un livello elementare che è abbastanza facile ma non facilissimo, che va a focalizzare proprio dei dati base del comune di Pordenone, come possono essere quello del numero degli abitanti, quindi dei residenti, il numero degli stranieri, ma anche i chilometri quadrati del nostro comune. Dati statistici e quiz digitale sono disponibili sul sito web del comune.